Inaugurata in Pompa Magna all'inizio dell'estate del 2018 dalla loro amministrazione messinese, a distanza di tre anni ormai l'elisuperficie dell'Asi, che funge da pista di atterraggio e decollo per l'elicottero del 118, continua a essere ridotta in condizioni assolutamente poco dignitose. La struttura, realizzata negli anni 90, sorge su un'area di concessione gratuita del consorzio. Sotto l'amministrazione Fasulo venne firmata una convenzione tra il Comune di Gela, la Ghelas e l'Associazione Misericordia per rendere finalmente operativa la pista e consentire alle ambulanze di risparmiare strada e tempo prezioso per trasportare in emergenza i malati fino all'elicottero. Tra le prescrizioni inserite in quell'accordo c'erano la rimozione dell'erbaccia, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ed il ripristino della recinzione e della viabilità d'accesso all'elisuperficie per l'accesso sicuro dei mezzi di soccorso. Ad oggi nessuna di queste prescrizioni è stata mantenuta e la pista è invasa dalle erbacce con i relativi disagi che i malati sono costretti a subire. Le erbacce hanno pure sommerso la manica a vento, segnale fondamentale per le manovre in fase di atterraggio e che oggi tra l'altro risulta totalmente distrutta dalle intemperie. A peggiorare la situazione anche i ladri di ferro che approfittando dell'assenza di un vasto tratto di recinzione hanno portato via le grate dei canali di scolo della pista e i tombini della fognatura. E come vedete alle mie spalle la recinzione è totalmente assente. Da questo lato chi vuole venire a rubare il rame o il ferro dei tombini lo fa con estrema facilità, entra dentro e porta via tutto. Una recinzione che doveva essere riparata al comune già tre anni fa quando venne preso l'impegno da parte dell'amministrazione. Ad oggi però non c'è stato nessun intervento. E questa come vedete è la sorte che tocca a quasi tutti i tombini della elipista. Circa una ventina di tombini completamente rimossi e portati via. Non va meglio alla strada d'accesso dalla quale arrivano i mezzi di soccorso. Proprio in occasione dell'inaugurazione vennero promessi interventi immediati mai realizzati. Entrambe le strade di eccesso sono pressoché impercorribili, invase dal fango e da rifiuti e rischiose soprattutto per il trasporto di pazienti politraumatizzati. Come vedete stiamo percorrendo una delle due strade che porta all'elipista ma è come affrontare sostanzialmente una sorta di safari che la strada è totalmente distrutta. è piena di buche e pozzanghere, colme d'acqua oltre al fango. Provate a immaginare un politraumatizzato che deve essere trasportato in queste condizioni fino all'elipista. Solo quest'anno l'elipista ha già effettuato circa una cinquantina di trasporti, oltre 300 da quando è stata aperta e resa operativa. E tutto questo senza ancora nemmeno un impianto di illuminazione che ne consenta l'utilizzo H24. Anche di questo impegno preso dall'amministrazione non c'è più alcuna traccia se non qualche dichiarazione alla stampa utile più che altro a alimentare lo scontro tra Comune e DASP per le competenze, ma che di fatto non ha risolto la situazione lasciando la struttura totalmente al buio. Questa, come tutte le altre manutenzioni delle risuperficie, rimangono a carico del Comune, al quale gli operatori alla misericordia hanno lanciato un appello per un intervento immediato prima che la situazione degeneri.